Giorno 2, mercoledì. Apro gli occhi e c'è la luce. La caramellina dell'infermiera rossana, il farganasse o come cavolo si chiama, è un portento di sostanza. A differenza delle benzodiazepine, che donano un risveglio intontito, lentissimo, questa ti rimette in veglia assolutamente lucido. Di contro, il sonno passato non lascia particolare soddisfazione, ma è un farmaco da tenere in considerazione. Uno degli psichiatri che ho frequentato, mi pare San Filippo, alla fine di un incontro mi disse che tendo alla tossicofilia, all'attrazione verso le sostanze in genere. Inizialmente, forse per paura, mi convinsi che aveva torto, invece la sua fu una delle poche valutazioni azzeccate sul mio conto. Se la sostanza di turno è in grado di togliermi un poco da me stesso, se riesce a placare il motore impazzito che mi gira nel petto, allora ben venga. Ma poche tra le droghe riescono a donarmi tranquillità, meno che mai le droghe cosiddette leggere. La hashish produce l'effetto esattamente contrario, rilassa il corpo ma eccita la mente, la fa ragionare in maniera velocissima, al punto da farti dimenticare un pensiero nel momento stesso in cui lo stai partorendo. E poi mi aumenta l'ansia. Non lo dico a nessuno, ma è così. L'erba, a seconda del tipo, è meno aggressiva, ma ne ho conosciute di telluriche. La più potente è quella del mio amico Damiano, cresciuta sul balcone, seccata a testa in giù dietro l'armadio del garage. Una sera uscimmo con un suo compagno di militare, un genovese, simpaticissimo. Lui il sabato con i suoi amici era abituato a tirare l'eroina. Girammo una canna mentre la macchina viaggiava verso Roma. Ci dovemmo fermare, non riuscivamo a tenere gli occhi aperti e alle sostanze siamo abituati. Una canna, una sola, stese tre ragazzi. Ci risvegliamo al mattino ancora appesantiti. L'amico militare di Damiano ci disse che neanche un tiro di Brown lo aveva mai ridotto così. Le altre droghe, quelle chimiche, non placano ma rendono più socievole la smania che mi abita, la trasformano in un gioco divertente, almeno quando salgono. Ma il down è devastante, ha ogni pasticca di più e con i problemi di insonnia diventa un mostro invincibile. E poi, di volta in volta, sabato dopo sabato, l'app dura sempre di meno e quindi via a mangiare pasticche. Da una a due, poi tre, dieci. Alcuni amici arrivano ormai a una quindicina a sabato. Alla fine paiono come mostri, con la mandibola slegata dal resto del viso, scavati da sembrare morti viventi. Ma alle prime pasticche di ecstasi. Come tornare a sei anni la mattina di Natale e ritrovare sotto l'albero il regalo che si era desiderato per mesi e mesi. La stessa felicità, la stessa sterminata gioia a perdita d'occhio e un'energia in grado di farti ballare per una notte intera. Solo alle prime, però. L'incantesimo, un sabato alla volta, si trasforma in sortilegio, perché quello stato di grazia ti si allontana sempre di più, corre via di discoteca in discoteca e per stargli dietro ci si alimenta a pasticche. La gioia non tornerà mentre arriveranno altri amici non invitati alla festa, gli incidenti stradali, gli arresti, cervelli su cervelli consumati per divertimento. Comunque, per onestà intellettuale, al dottor Sanfilippo va scritta una delle poche intuizioni corrette riguardo il magma che mi scorre dentro. Sul mio comodino ritrovo una tazza con del tè, o che vorrebbe esserlo, ancora fumante. Accanto, una confezione singola di fette biscottate e una di marmellata alle ciliegie. I miei compagni di stanza hanno già fatto colazione, Gianluca è l'unico assente. Il mio dirimpettaio, invece, è sempre mezzo metro sopra la mia testa, ipnotizzato. E se la catatonia di Alessandro fosse proprio questo? Un'ipnosi. Il padre ha detto che quando gli è presa stava da solo a fare il tramezzo. E se fosse stato qualcuno a renderlo così? Non intendo qualcuno di umano, ma qualche alieno, o demone, o entità qualsiasi. Noi che possiamo saperne? Mi pento quasi subito del pensiero. Questa è l'influenza di tutti i notte horror di Italia 1, nient'altro. In fondo, però, la sostanza non cambia. Malattia o demone, Alessandro è come un insetto cristallizzato in un'ambra invisibile, e per il momento nessuno riesce a liberarlo. Madonnina dorme ancora. Uno scricciolo di essere umano richiuso su se stesso, con la testa tra le braccia. Psss. È Mario, e si sta rivolgendo proprio a me. Con un cenno della mano mi invita vicino a lui. Io eseguo, ieri tra noi, a parte la richiesta della mela cotta, non c'è stato il minimo contatto. Come gli arrivo al fianco, lui per tutta risposta mi prende per le spalle e mi gira verso la chioma sempre verde dell'albero, poi mi piega leggermente da una parte. Guarda tra i due rami più grandi. Lo vedi? Eseguo l'ordine, ma non vedo nulla. Allora? Lo vedi? Non so che fare, assecondarlo o meno. Poi, tra foglia e foglia, mimetizzato come solo gli animali sanno fare, un piccolo nido e in trono lui. Un uccellino. Bellissimo. Muove la testa a scatti, al posto degli occhi ha due perle nere, scintillanti. L'ho visto. Mi giro verso Mario. Gli sorrido, grato per la bellezza che mi ha invitato a condividere. Lui ricambia. Mostra sul viso una contentezza purissima. Mi viene in mente quella boccaccia di Gianluca. Appena lo vedo, gli devo dire che l'uccellino di Mario non è una farneticazione delle tante che viaggiano qui dentro. Tu ora non ci crederai. Ma io una volta ne ho visto uno resuscitare. Sono sicuro che fosse morto. Poi però è tornato a vivere. A muoversi. Alla fine è volato via. E sicuro non mi credi. Ma se l'avessi visto non avresti dubbi nemmeno tu. Non so che dire. È lui a togliermi dall'imbarazzo. Io sto qui da un paio di settimane. Mi chiamo Mario. So che lo sai. Sì, Gianluca ieri mattina mi ha fatto il tour della stanza. Io sono Daniele. Lo so. Sai anche che facevo il maestro. Annuisco. Com'è che stai qui? È una domanda stupida, ma la curiosità ha male certezze. Anche quando non esistono. Da bambini come da vecchi. Non saprei cosa rispondere. Da qualche anno vago per dottori. Hanno tirato fuori quasi tutte le patologie. Quelle solite. In che senso? Intendo le nevrosi, quelle che dipendono dall'ansia, le fobie, la depressione. Sono quelle più in voga. Sì, più o meno il quadro è questo. Sto per dirgli della sua somiglianza paurosa con Brian May Day Queen, ma alla fine la vergogna mi fa desistere. Intanto dalla porta si affaccia il dottor Cimaroli. Buongiorno signori. E se ne va. Lo stregone è arrivato, mi fa Mario guardando in direzione della porta. La sua definizione mi fa sorridere. Perché stregone? Perché dalla punta dei piedi sino al collo la scienza qualcosa ha capito. Ma di qui sopra e si indica la testa. Ancora niente. stiamo ancora al tempo della stregoneria. Sono mutati i riti, le formule magiche, le erbe sono diventate pasticche. Ma la verità è che la medicina brancola nel buio. Magari domani si svegliano e ci dicono che la malattia che ci avevano affibbiato non è così certa. Che il meccanismo d'azione di questa o quella cosa non è come avevano sempre pensato. Non vorrei ferirlo, ma la sua visione mi sembra esagerata. Lui se ne accorge. Fai bene a non credermi. Ma ti assicuro che è così. Domani, da Boston o Tokyo o qualsiasi parte, arriva la notizia di uno scienziato stregone che ha fatto un nuovo studio su una parte specifica di cervello e che il suo studio afferma con certezza che quel disturbo mentale non è come la comunità scientifica ha sempre pensato. Ti dicono, signori, è questa qui la verità su quel disturbo. In realtà è semplicemente l'ultima ipotesi. E tutto cambia. Ma tu fai bene a non credermi. Sei ancora giovane e se avrai fortuna qualche medico in gamba lo troverai. Uno di quelli disposti a giocarsi tutto pur di capire il dolore degli altri. Io uno l'avevo incontrato, ma è volato in cielo troppo presto. Mario parla in italiano senza cadenza alcuna, pulito, scandito come si dovrebbe. Non so se lui ne sia al corrente, ma pare carezzare con gli occhi il suo interlocutore ogni volta che lo guarda. Un dono, una dolcezza che dovrebbe risiedere in ben posso permettermi. Lei invece come sta qui? Mario mi blocca. Ramatti ci si dà del tu. Tu invece com'è che stai qui? Mario torna al suo uccellino di carne e ossa. I suoi capelli ricci ballano nel filo di vento già caldissimo che entra dalla finestra. Mi perseguitano delle cose. Non riesco a mandarle via. Non c'è fuga possibile. Affogo nella mia mente. Gli occhi di Mario, campioni di dolcezza, ora navigano nell'abisso. Si gira verso la vestaglia consonta. Se la infila. Dove adesso si gela. Signori, un nuovo ospite! Epino accompagna l'annuncio con un gesto teatrale. si ferma davanti al letto accanto al mio. Ecco a voi Giorgio, al quarto TSO dell'anno. Un applauso prego! Pino vorrebbe eseguire un inchino, ma la sua pancia non glielo permette. La cosa gli toglie la voglia di scherzare. Dalla porta ecco spuntare il nuovo inquilino. È un bestione di una trentina d'anni, non meno di un metro e novanta. Una canottiera a coprire il torace enorme, le braccia due volte le mie. Con sé ha una busta della spesa. Nient'altro. Guarda nella nostra direzione in Cagnesco. Si dirige verso il letto vuoto accanto al mio. Ci si siede. Dal povero materasso un rumore di molle al lavoro. Mario, a te ti aspetta Mancino. Forza! Ci vediamo dopo. Mario si congeda da me con un sorriso. Io faccio lo stesso. Nello stanzone ci siamo solo io e il nuovo arrivato. Ciao. Tento di presentarmi, ma il bestione, Giorgio, non sembra interessato. Senza farmi accorgere lo spio, si è allungato sul letto, il viso è coperto da una capigliatura folta e in forme. Sotto intravedo lineamenti massicci. Il naso sembra quello di un pugile schiacciato su se stesso, il mascellone pronunciato così come la bocca. Ciao, mi risponde, e contemporaneamente si tira su dal letto. Mostra un'inaspettata agilità vista la molle. Finalmente guarda nella mia direzione. Giorgio va verso la porta della stanza, si affaccia fuori, guarda a destra e a sinistra, poi accosta le due ante. Quest'ultima azione non la capisco. Lui si gira furtivo verso di me. Vi è qua. Saranno le undici passate. Nella stanza avremo già una trentina di gradi, ma freddo e caldo non dipendono solo dalla temperatura, ne sa qualcosa il povero Mario. In accelerazione folle, una sequenza di pensieri. Cosa faccio? Chiedo aiuto. Che cazzo verrebbe ad aiutarmi? Pino? Giorgio intanto si è riseduto sul letto. Scappo di corsa verso la porta socchiusa. Non sono un fulmine, ma dovrei farcela. Alla fine, un passo per volta, sudato da fare pena, gli arrivo vicino. Mette tasse d'è qua e mi indica la porzione di letto vicino a lui. Obedisco. Da come mi metto seduto inizia a sorridermi. Io so Giorgio. Gli manca un canino, il superiore sinistro. Mi poggia una mano sul ginocchio. Ora è terrore puro. Con una certa goffaggine si piega di lato, tira fuori dalla tasca posteriore dei jeans il portafoglio, ci tuffa gli occhi dentro. Da qualche parte devo averci una gannetta. Se la fumamo insieme. Annuisco felice, di colpo alleggerito. Come no? Quando devo fare? Eccola la briciola di Ashish. Me la mette sotto al naso. Faccio finta di sentire chissà quale profumo. In realtà niente. Hai visto che me so fatto? No. Lui si volta. Il sorriso si smorza, diventa una ferita sul viso. Tutto dentro di me si spegne. E quel che di vivo rimane vorrebbe non vedere. Da lontano non ci avevo fatto caso. Neanche per tutto il tempo che gli sono stato seduto vicino. Giorgio mi mostra il braccio destro. Quello dalla parte opposta a dove siedo io. La più antica è sul polso. Una linea appena percepibile. Remota come può essere l'infanzia. Poi, una dietro l'altra. Altre linee. Via via più nette. Visibili. All'altezza del gomito diventano cicatrici vere e proprie. E su per l'avambraccio. Il bicipite possente sino all'ultima. Sulla spalla. Appena suturata. Un taglio fresco. Il sangue a malapena rappreso. Due punti per chiudere l'ultimo atto di odio verso se stesso. Guardo quella via di tagli senza riuscire a smettere. Provo a contarli. Di dieci in dieci. Saranno almeno duecento. Tra l'uno e l'altro non più di qualche millimetro. In ordine approssimativo. Alcuni mezzi storti. Visto? Cosa posso dirgli? So cosa posso fare per me. Piegare la testa di fronte a quello strazio. Non importa per quale motivo. Se giusto o sbagliato. Ma a questo primato di sofferenza bisogna rendere l'onore delle armi. Guarda che te faccio vedere. Si rimette a cercare qualcosa nel portafogli logoro. Alla fine la trova. Una fotografia. In bianco e nero. Me la mette sotto gli occhi. Una donna attorno ai quaranta. Il bel viso scolorito dal tempo. Questa è mi madre. Lo dice con un orgoglio ragazzino. Fiero. Poi qualcosa da dentro inizia a fargli male. La mattina mi fa. Giorgio mamma va al mercato. Io stavo con nonno. Non ci avevo manco dieci anni. Passano ora. Due ore. Mamma non torna. A sera ci chiama all'ospedale del gensano. Giorgio inizia a tirare su col naso. La mano ancora appoggiata sulla mia coscia inizia a sussultare leggermente. Io e nonno entriamo all'ospedale. Prendono lui da una parte. Inizia a urla come un pazzo. Se lo portano via. Io resto con infermiere che mi chiede come mi chiamo. Deve squadra so. Però io voglio andare con nonno. Così scappo e lo inseguo. Da lontano sento ancora che urla. Io vado vicino. Lui guarda dentro una stanza. Poi entra. Giorgio sembra incapace di gestire il ricordo. Più che altro per lui quello che sta raccontando non è un fatto che appartiene alla memoria. È qui. Ora. Sta accadendo dentro di lui. Allora pure io voglio entrare. Ma l'infermiere mi blocca. Poi ne arriva un altro. Da dentro sento nonno che non riesce a smettere piagne. Io c'ho quasi dieci anni. Mi caso un ragazzino. Inizio a strillare e fammi entrare perché io la devo vedere. Invece non l'ho più vista. Giorgio ha negli occhi la madre che gli negarono. Gliela vedo in mezzo alle lacrime. Non si muore così. Senza avvertire nessuno. Senza nemmeno salutarme. Si copre il viso con le sue manone. Sfinito. Ora capisco cosa sono i tagli lungo il braccio e più su la spalla. Non i tentativi di un aspirante suicida, come pensavo. Ma una massacrata conta. Ogni volta che Giorgio, sulla sua pelle di bambino, poi adolescente e infine uomo, ha vissuto la visione della madre morta, ha tracciato una riga. Come un cowboy sul suo fucile. La visione mancata della madre si è tramutata in maledizione, capace di farlo rimanere lì, accanto a lei in eterno, a dieci anni nemmeno compiuti. Vorrei avere una corazza, un'armatura del miglior ferro, capace di tenermi distante dalle cose. Vorrei non disperarmi per la disperazione degli altri, non sentire la madre di Giorgio come mia madre, la vita degli altri saldata alla mia con un patto di sangue. Perché il dolore costa fatica. Ho vent'anni ma ho sofferto per mille, rimanendo sempre uguale a me stesso. Un bambino, come Giorgio, di fronte a un dolore che non puoi conoscere né a domesticare. Ma i bambini non sono fatti per il dolore, nascono dalla gioia, per vivere in dolcezza gli amori che verranno. Qualcuno riapre la porta. Eh Gianluca, guarda nella nostra direzione e si incubisce velocemente. «Buongiorno!» L'augurio è rivolto solo a me, sottolineato da un veloce battito di ciglia. Giorgio invece pare infastidirlo. Magari si conoscono, saranno stati compagni di qualche sventurata occasione, di quelle riservate soltanto ai matti. Giorgio non sembra fare caso alla scortesia di Gianluca. Lui ha intanto guadagnato il suo letto, ci si siede guardando ancora nella nostra direzione, puntuto, da signora irritata. Ecco Pino, senza adegnarci di uno sguardo, inizia a ritirare le tazze e il poco altro della colazione. Si ferma accanto al mio letto. «Stanotte hai conosciuto a Meggera, eh?» «Chi?» «A Meggera, rossana, non l'hai vista. È una mezza strega, sempre de notte. Mi sembra una brava donna. lei?» «Tarebbe bene a lavorare dentro al Lager. È maresciallo, brutta da sempre. Con me è stata gentile. Mi ha dato pure una cosa per dormire, il far ganasse, se no quando ci riuscivo?» «Te l'ha dato per le vatte sedi ai coglioni, no, gentile? Avecce è un matto che non dorme e gira per reparto, è una iattura. Pino è spontaneo, spesso anche simpatico, ma non eccelle in grazia né in sensibilità. Non sembra aver colto, infatti, la poca gentilezza dimostrata nei miei confronti. Mi ha appena dato del matto, non che la cosa sia così fuori luogo. Lui prosegue come nulla fosse accaduto. L'unica cosa buona della Meggera è che ha convinto al direttore sanitario dell'ospedale a fa semette cinque giorni a settimana de notte. Una cosa totalmente fuori legge, però alla fine è stata bene a tutti, soprattutto a me e a palle secche». «Chi?» «Lorenzo, l'infermiere che fa il pomeriggio. Io lo chiamo palle secche, perché per me è mezzo tisico. In pratica noi stiamo a turni fissi, io faccio la mattina, così poi posso farmi qualche altro lavoretto. Palle secche il pomeriggio, poi esce la ragazza che secondo me gli emena. Invece a Meggera fa la notte, così il giorno può stavvicinar marito». «Perché? Il marito che c'ha?» «Nictus, l'ha lasciato come un vegetale o poco più. Per giorno c'è sta lei, la notte la figlia, più brutta della madre. Immagina l'allegria. Mo' vado che devo finire ancora il giro delle colazioni». La pancia di Pino e lui con lei se ne vanno. Nulla fa per apparire meno indifferente al prossimo di quel che è. Se esistesse un campionato del mondo di non curanza, Pino potrebbe rappresentare l'Italia. Bravo. È così che si vive. Con un giubbotto antiproiettile calato sul cuore. Invisibile. Un talento del genere non si compra. È un dono della natura, purtroppo. «Noi comuni mortali possiamo sapere nome del nuovo ospite, giusto così per educazione». Gianluca, con occhi luciferini, si è rivolto a Giorgio. «Mi rendo conto che in questa stanza ci stanno figli e fiastri, quelli che fanno comunella mentre gli altri stanno dai dottori. Allora parlate tra voi, giocate tra voi». Gianluca guarda anche nella mia direzione. «Ma ce l'hai pure con me?» gli chiedo. Lui proprio non riesce a ignorare il debole che nutre nei miei confronti. Tenta di tenere il punto, ma con più dolcezza. «Certo. Entro e vi vedo in due sul letto. Te sul mio non ci sei mai stato. E poi lui ancora non si è presentato!» E via un nuovo sguardo infuocato verso Giorgio. «Maria, ho perso l'anima! Aiutami, madonnina mia!» L'urlo mi fa saltare dal letto. Al mio fianco, senza produrre rumore alcuno, mi ritrovo madonnina. Si è svegliato. «Maria, ho perso l'anima! Aiutami, madonnina mia!» A parte la sua implorazione meccanica, nulla di lui comunica qualcosa, nessun indizio. Guardo Mario, poi Gianluca, gli unici due oltre me a essere dotati di una testa parzialmente funzionante. «E se fai in questi casi? Chiamamupino?» Gianluca sbuffa. Abbiamo interrotto il suo sfogo. «Certo, non lo vedi? Si è pisciato sotto!» La chiazza sui pantaloni del pigiama m'era sfuggita. «Maria, ho perso l'anima! Aiutami, madonnina mia!» Mi alzo e lo metto seduto su una sedia. Per farlo lo prendo per i polsi, sembrano quelli di un bambino. Si fa condurre senza nessun tipo di reazione. Pino entra in stanza. «S'è pisciato sotto, madonnina!» Gianluca riporta la notizia con quella irritazione che proprio non riesce a passargli. Il suo bersaglio è sempre Giorgio, ma il nuovo arrivato non lo degna di uno sguardo. «Basta, te metter pannolone!» La determinazione con cui Pino tira su per un polso, madonnina, è esagerata, sgraziata. Mario, di solito silenzioso, ha uno scatto. «Attento, gli fai male!» Anche Gianluca, di fronte all'irruenza di Pino, ha distolto gli occhi da Giorgio. «Tutti guardiamo nella stessa direzione, almeno i non catatonici. «Male il cazzo! Se vuoi facciamo noi, ma non trattarlo così!» Mario ha alzato la voce, e nella sua postura ora è visibile il maestro che era e l'autorevolezza capace di affermare. Pino, in questa improvvisata recita umana, è lo scolaro monello che si rende conto di aver esagerato. Subito molla il polso di madonnina prendendolo più delicatamente per un braccio. «Mega io ho fatto niente!» La sua voce è un sussurro. «A voi ve sembra facile! So 25 anni che levo pisce e merda! Nessuno deve essere maltrattato e ci mancherebbe! Ma voi me dite che gli potemo fa' noi a uno come madonnina! Dovrebbe sta' in un ospizio, una casa de cura! Invece gli fanno fa' dentro e fuori, da un ospedale a un altro! Na mo va, madonnì!» Escono dalla nostra stanza per entrare in quella poco lontana della medicheria. «Un po' di ragione ce l'ha!» «È a Mario che mi sono rivolto, poi guardo anche Gianluca!» «Questi sono posti che non vanno tanto a braccetto con la ragione! Ma il rispetto verso gli altri è il primo comandamento! Tanto ci pensiamo noi a farci del male!» Nessuno sente di dover replicare. «Non vola una mosca! Sembra che ognuno alle parole di Mario si sia messo a contemplare i propri rispettivi mali, in silenzio!» Pino e Madonnina rientrano. «Non messer pigiama in candeggina! Ce n'ha uno solo! E adesso deve sta' così!» Madonnina ha per mutande un grosso pannolone. Le gambe nude, leggermente arcuate, sembrano rami seccati dal caldo di questi giorni. Si lascia condurre da Pino sul suo letto, indifeso, rintanato dentro se stesso, come sempre. «Grazie, Pino!» Mario sorride verso l'infermiere con l'intenzione di superare il momento di frizione. Lui fa un cenno del capo. Nient'altro. «Moh, fatemi fini con le colazioni, che tra una cosa e n'altra avemo fatto quasi ora de pranzo!» Riservato ai temerari, i forti di cuore, al lago di Albano noi ragazzi abbiamo un posto speciale, la cabina del Papa, una struttura di cemento armato che secondo alcuni ospitò durante le Olimpiadi del 60 a Roma il Santo Padre. Era la sua postazione privilegiata per vedere le gare acquatiche che si svolsero lì, proprio sotto la sua residenza estiva, a Castel Gandolfo. In realtà era una specie di pompa idraulica, o qualcosa di simile, o forse qualcos'altro ancora. Ora è una struttura abbandonata, a picco sulle acque cristalline. Della nostra comitiva saranno giusto in tre o quattro ad avere nelle vene il coraggio del salto. Si prende la rincorsa e dal tetto della cabina ci si lancia. Il volo sarà di almeno otto metri. È l'entrata in acqua la vera scommessa, non tanto per lo schiaffo del lago da quell'altezza, ma perché una fila appuntita di rocce aspetta che il ragazzo di turno sbagli le misure del tuffo per far sentire la propria presenza. L'entrata in acqua può avvenire solo in una zona precisa, larga al massimo un paio di metri. Se ci si sbaglia, tanto a destra quanto a sinistra, si finisce sulle rocce, quindi al pronto soccorso, lo stesso che mi ha dato in dono questo trattamento sanitario obbligatorio. La cabina del papa mi è venuta in mente guardando il pelo di quest'acqua giallastra che ho nel piatto. Brodo di carne, così Pino mi ha detto. Il cucchiaio vorrebbe avere il coraggio del tuffo, ma resta sospeso, titubante. Alla fine si butta. Non posso andare avanti a biscotti. Il sapore è meno peggio delle aspettative. Della vita, in questi primi vent'anni di praticantato, ho capito quasi niente. Giusto una cosa inizia a essermi chiara delle tante che mi violentano la testa. L'attesa di un qualsivoglia evento diventa nelle mie aspettative il peggiore degli incubi. Mi piacerebbe essere uno di quei ragazzi che immagina per sé sempre il meglio, trionfo dietro trionfo. Io il contrario. Questa è la ragione per cui dalla cabina del papa non mi sono mai buttato né mai lo farò. Perché nei miei occhi la vita che verrà è sempre la peggiore possibile. Quindi eccomi saltare con precisione chirurgica sulle rocce a pelo d'acqua, la corsa al pronto soccorso, la vita da paralitico su una sedia a rotelle, imboccato da mia madre, sempre più vecchia. L'ottimismo è la mia arma segreta. Invece il brodo non è male. Non è quello di casa mia, certo, ma è mangiabile. Nella stanza una sinfonia di brodo risucchiato con fuga dai cucchiai. Gianluca è il più delicato, tiene la posata con il mignolo alzato. Giorgio il più risoluto. Ogni sua sorsata si propaga in tutto l'ospedale. Dall'ultima cucchiaiata nel piatto nelle mie orecchie è iniziato ad arrivare ben altro suono. Questo melodico, celestiale, di sirena. È l'incanto del sonno post-prandiale. Mi chiama a sé e io vorrei tanto cedere, come fanno mia sorella e mio fratello, lei soprattutto. Appena si poggia su una superficie orizzontale sviene letteralmente. Sembra una di quelle bambole con palpebre mobili, come la mettilunga chiude gli occhi. Io, assieme alla scarsa altezza, le ossa leggere, i capelli finissimi, ho preso da mia madre. E lei non dorme e se lo fa di un sonno leggero, insapore. Mio padre, invece, e gli altri due suoi figli, ha ossa grosse, altezza notevole e capelli di ferro, e si addormenta come un eroe dopo la più ardua delle imprese, anche sul tavolo appena mangiato. La figura di mio padre è veleno per il mio desiderio di pennichella. Me lo rivedo disteso, incosciente, la sua mano enorme stretta fra le mie, eternamente infantili. Mio padre ha una cellula sana di questo mondo, uno di quelli che rimarrà nella storia. La storia degli umili, delle persone oneste, dei lavoratori infaticabili, dei padri di famiglia che solo in pochi hanno la fortuna di avere, e quelli che ce l'hanno la sfregiano, come il sottoscritto. Neanche ci provo a dormire. Sarà al massimo l'una. Il reparto è troppo piccolo per fare una passeggiata degna di questo nome. Potrei mettermi davanti alla tele, ma non ne ho nessunissima voglia. Questa è l'ora dei telegiornali, meglio evitare. Mi ritrovo immobile, in mezzo al corridoio, smanioso di fare qualcosa, una qualsiasi. Di fronte a me ho la doppia porta che conduce dalla parte dei pazienti cattivi. Questa definizione mi inquieta e al tempo stesso mi fa sorridere per quanto grossolana. Buoni e cattivi. Funziona alle elementari, al massimo alle medie. Di cattivi veri ne ho visti davvero pochi. Conosco ladri, spacciatori, tossici, tutto quello che la strada ti offre in dono, ma persone a cui piace il dolore altrui, è raro trovarne. Di solito il male che facciamo è per fare meglio e più a fondo i nostri interessi, non volontariamente, non come obiettivo finale. Diciamo che il danno procurato a chi ci vive attorno è un effetto parallelo, messo spesso in conto. Mentre mi perdo dietro i ragionamenti, arrivo alla doppia porta con i vetri oscurati che divide la nostra zona di reparto dall'altra, quella dei cattivi. Forse, ma chi può esserne veramente sicuro? Il mio stato mentale è in queste condizioni per tutte le curiosità che non avrei dovuto esaudire. Dalla prima che la mia memoria abbia preso in consegna avrò avuto al massimo sei anni. Lui, disteso sulla tiburtina, coperto malamente da un lenzuolo. Non fu tanto il corpo a impressionarmi, ma le scarpe che portava. Un paio di mocassini identici a quelli di mio padre. La cosa mi sconvolse. I mocassini di mio padre potevano morire. Siamo fatti di immagini indelebili, appena scontornate dagli anni, come il piccolo Giorgio davanti alla stanza che nasconde il corpo di sua madre. Immagini capaci di farci saltare indietro nel tempo, di riportarci lì, dove la ferita si è aperta. La porta è socchiosa, nascosto leggermente, giusto lo spazio che serve agli occhi per fare il loro dovere. La mano che mi agguanta il collo è certamente di un uomo. Oggi mi avete proprio rotto il cazzo, lo sai che non si può andare dall'altra parte. Pino, come fossi il suo pupazzo e lui il ventriloquo, mi muove dal collo. La sua mano compie un giro di 180 gradi. Io faccio lo stesso. Motte metti bono. Pensi di riusci a fa' quello che ho detto? Sì. Pino molla la presa, è vestito in abiti civili, pronto ad andarsene. Scusa, me stava ad annoia. Pino è veloce a incazzarsi quanto a sbollire. Si gratta la fronte, sudata, bucata dall'acne. Me lo potevi di? Te portavo a fan tour dell'ospedale, te presentavo gli infermiere giovani. No, vattene in stanza tua che te vi accarci in culo. Lo vedo schizzare verso la porta del reparto, aprirla con la chiave e richiudere, con me dentro, recluso. Dentro la stanza il sonno pomeridiano ha avuto la meglio su tutti, a parte Alessandro e la sua catatonia invincibile. Come per il brodo risucchiato, Giorgio è quello più fragoroso, russa come mai avevo sentito prima, e di russatori ne conosco. Niente che appartenga al suo corpo può essere minuto, o nella media. Prendo da dentro l'armadietto il quadernone e la penna che mia madre ha messo nel borsone portato da mio fratello. Non glielo avevo chiesto, ci ha pensato lei, esaudendo un mio desiderio ancora prima che io stesso lo esprimessi. Un misto di preveggenza e telepatia. Lei è stata la mia prima lettrice. Per un breve periodo una fidanzata è stata la seconda, ma ora il mio pubblico è tornato a essere di una persona sola. Le mie poesie le piacciono, spesso mi dice che sono tristi, però non ha mai smesso di incoraggiarmi. Ma quanto può valere il giudizio letterario di una madre? È a lei che la penna corre. Me la rivedo all'uscita di scuola in attesa di suo figlio. Abitavamo ancora a Roma. Io facevo le elementari. Le prime parole di inchiostro vengono al mondo. Sei sempre tu che vieni a riprendermi. Dalla porta si affaccia Lorenzo, detto amichevolmente palle secche dal suo collega Pino, rara espressione di cortesia e delicatezza umana. Aspetta Cimaroli. È strana la scrittura. Per principiarla occorre prendere una specie di rincorsa. Gettarsi a volo d'angelo nel bianco della pagina come i miei amici dalla cabina del Papa. Quando si è partiti però non ci si vorrebbe più fermare. Almeno sino a quando non finisce quella particolare elettricità che si è stabilita con tutto ciò che ti chiede di essere cristallizzato in parole. Interrompere la scrittura mi fa nascere pensieri storti. Immagino la poesia che stavo scrivendo come un amante lasciata sul più bello, delusa al punto da fuggire per sempre. Mentre vado verso Cimaroli chiedo scusa, non so bene a chi, non so bene a cosa. Scusa comunque. Me l'hai portata la poesia? Cimaroli oggi indossa una polo azzurrina, la pelle chiarissima del viso è leggermente abbronzata. No, ma sto provando a scriverne una nuova, se ci riesco. Da quando scrivi? Dalla terza media, grazie alla mia professoressa di italiano, la Hoppes, magari la conosce. Cimaroli fruga nella memoria, ma non gli viene in mente niente. Perché grazie a lei? Ebbe un'intuizione in classe che mi fece capire quanto può essere importante la scrittura. Raccontami. Una mattina, mentre stava spiegando, scoprì una mia compagna con un libro sotto il banco, Moira Francavilla si chiamava, ancora me la ricordo. Invece di sentire la lezione se ne stava a fai fatti suoi. La Hoppes le chiese cosa stava combinando. Quando vide che leggeva un libro, le domandò il titolo. La mia compagna divenne rossa come un peperone. Era la biografia di John Bon Jovi. Cimaroli sorride al nome. Il rocchettaro coi capelli laccati? Annuisco. E allora? La Hoppes, invece di incazzarsi, di metterle una nota, le chiede di leggere. Moira non vorrebbe, alla fine è costretta. Faceva più o meno così. John, appena arrivato a Los Angeles, sudò lacrime e sangue sui banconi dei bar prima di avere un provino. La prof resta un attimo assorta, poi schizza fuori dall'aula. Pensiamo tutti che sia andata dalla preside. Invece torna con un libro in mano. Inizia a sfogliarlo finché non trova quello che cerca e lo passa a Moira. Tieni, le dice. Era, se questo è un uomo di primo levi. Le fece legge il passaggio in cui i prigionieri che vengono chiamati per la doccia a gas lasciano ai nuovi venuti il cucchiaio con cui hanno mangiato. Lo sanno che moriranno. Quindi quel cucchiaio è l'unica cosa di loro che rimane al mondo. Interrompo perché, a ricordare quel momento, forse anche per il nervosismo causato da tutta la situazione in cui mi trovo, faccio fatica a trattenere l'emozione. Magari lo spiego male, ma lì ho capito che la scrittura non è un gioco, una noia come me l'avevano sempre insegnata. Ho capito a che serve veramente e che è l'unico mezzo che può raccontare quello che vedo, che mi esplode dentro. Cimaroli ha ascoltato attento, non ha mai staccato gli occhi da me. Perché non mi parli un po' di queste, come le chiami tu, esplosioni? Raccontami, fammi capire. Inspiro lentamente. Lo studio medico del reparto è senz'altro più caldo della nostra stanza. Passo una mano sulla fronte, bagnata di sudore. Non è facile. In estrema sintesi mi sembra che la vita mi pesi più che agli altri. Ma non solo in senso negativo, ma anche sulle cose belle mi sembra tutto gigantesco. Però gli altri non la vedono così. Per me è una specie di ritardo mentale. La mia affermazione lo fa ridere. Un ritardo mentale? Addirittura? Sì, perché le altre persone crescono, fanno la conoscenza della morte, dell'amore, di come è fatta la vita in genere e se ne fanno una ragione. Convivono tranquillamente con tutto. Io no. Non riesco a facciare l'abitudine. Ogni giorno nasco e rifaccio i conti da capo. Di notte è come se morissi. Per rinasce la mattina dopo. Forse è per questo che soffro di insonnia. Il collega ieri ha parlato di alfabeti, di codici che ci insegnano da ragazzini. E come considera una persona che non riesce ad apprendere l'alfabeto? Un ritardato, appunto. Soffri di insonnia? Sì, più o meno da sempre. Mia madre per ridere mi dice che dipende dal fatto che da bambino non bevevo latte, ma andava avanti a te, come se lei dormisse. Soffre anche lei di insonnia. Annuisco. Ed ansia. Ma i figli devono far meglio dei genitori, no? Quindi io ho aggiunto De Mio. Restiamo in silenzio. Cimaroli riordina le idee, ragiona appresso a qualcosa. Ieri ci hai parlato dei farmaci. I colleghi che ti hanno tenuto in cura negli anni scorsi, di che patologie ti avevano parlato? Non riesco ad associare patologie a dottore. Comunque, un paio parlavano di bipolarismo, uno di bipolarismo e qualcosa, mi pare misto. Un altro, San Filippo, di borderline. Ho fatto un certificato medico che ho portato al distretto militare. Dopo qualche mese è arrivato il congedo per malattia a casa. Cimaroli non fa nulla per apparire meno scettico di quel che è. Ricordi perché i colleghi avevano parlato di depressione bipolare? Veramente il secondo non ha fatto altro che convalidare la diagnosi del primo. Ha solo provato a cambiare farmaco, dal carbolitium a un altro, mi pare Depakin. Comunque, lui mi chiese dell'umore in generale e io gli ho raccontato che mi sento un po' come una pianta. A primavera è come se rinascessi. I colori, le giornate più lunghe. Vivo una gioia bellissima che va avanti per tutta l'estate. Ma come si avvicina settembre, l'autunno? È come se morissi, se mi seccassi dentro. La malinconia mi ammazza. Capisco. Cimaroli apre una cartellina, sull'intestazione il mio nome e cognome, poi, in grande, a stampatello, la sigla del trattamento riservato. TSO. In una settimana è difficile fare una diagnosi davvero approfondita, anche se ci vediamo tutti i giorni, come più o meno faremo. Per parlare di bipolarismo dovremmo avvalerci di una serie di strumenti che qui non abbiamo, occorre una vera psicodiagnostica. Ora sono io a sorridere. Psicodiagnostica? Sembra quello che si fa alle centraline delle macchine. Hai ragione. È un termine strano per denominare una cosa semplicissima, nient'altro che una serie di test. Né io né Mancino abbiamo competenze specifiche in psicodiagnostica e siamo solo io e lui, oltre al primario, che sta quasi sempre agli ambulatori del primo piano. Da oltre un anno siamo sotto organico, purtroppo. Proviamo a chiedere al meccanico che sta qui al semaforo? La battuta arriva a segno. Cimaroli, quando ride, ha la faccia davvero simpatica. È un'idea. Mi faccia attaccare il cavo al cervello, poi me leggono dentro a un monitor, così capiamo una volta per tutte. Lui ha riacquistato velocemente il suo aplomb. Io metterei da parte per il momento la depressione bipolare. Ora mi interessa farti stare meglio il prima possibile. Una volta stabilizzato avrai modo di andare più a fondo. Ieri hai parlato di anafranil, come sai è un antidepressivo, ma di una categoria più vecchia. È un triciclico pieno di effetti collaterali. Anche di questo ovviamente sai tutto meglio di me. Il collega Mancino ha fatto riferimento alla serotonina. Secondo me è da lì che dobbiamo partire. Oggi esiste una nuova categoria di psicofarmaci molto efficaci e con pochi effetti collaterali. Si chiamano inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina. Mi orienterei su un farmaco di questa categoria. Agiscono non solo sulla depressione, ma anche su tutte le patologie legate all'ansia, come le fobie. Sono efficaci anche sul disturbo ossessivo compulsivo. Tu hai compulsioni? Ti senti meglio quando ripeti certi gesti? Ora no, anni fa sì. Avevo tutto un rito prima di mangiare, su come lavarmi le mani, cos'è così, ma niente di che. Sulle ossessioni il discorso è diverso. In pratica mi divorano. Me ne diresti qualcuna? I medici che ho conosciuto, tutti, anche Cimaroli, in alcuni momenti non sembrano rendersi conto della mole di sensazioni che certe domande scatenano in chi dovrà dargli una risposta. dentro c'è di tutto, dall'imbarazzo alla difficoltà di rivelarsi, alla paura di essere preso per malato di mente, più di quel che si è. Ma loro non sembrano farci caso. Per lo più sono immagini, visioni. Vedo i miei familiari morti, quasi sempre per incidente, oppure io che perdo il controllo. Queste sono quelle fisse, poi altre a seconda della situazione. Non c'è modo di fermarle, anzi, più mi ordino di non pensarci e più ne vengono. Una ragione in più per orientarsi su un SSRI. È la sigla dei farmaci che ti ho detto. Tu che ne pensi? I medici siete voi, io posso solo affidarmi e tentare di star meglio. Stare male è brutto e io non voglio più star male. Bravo, la volontà di stare meglio è fondamentale. Io vorrei soltanto imparare ad accettare la vita, a diventare tutto normale, come per gli altri. Delle grida di ragazza entrano nello studio senza bussare. Solo Gianluca può essere. Cimaroli si alza di scatto per andare a vedere, io dietro di lui. La scena è questa. L'infermiere Lorenzo frapposto a Gianluca e Giorgio. Te taglio la gola, capito? Io te taglio la gola! È Gianluca a urlare. Giorgio gli risponde a sguardi, per lo più di scherno, provocazione. Se Giorgio alza una mano, te schiaccia come una mosca. Il bestione ha parlato di sé in terza persona, poi scoppia in una risata gigantesca. Posso sapere che sta succedendo qui? Cimaroli lo ha chiesto a Gianluca, il più esagitato tra i due. Dotto, lui dice de' no, ma me guardava da quando è arrivato per pia a me per culo. Io me l'accorgo se qualcuno me va a pia per culo, ma ha detto pure brutta. Brutta, t'ho sentito, sasto maledetto. Giorgio sembra cadere dalle nuvole. Il broncio che mette è surreale, l'espressione di un bambino su corpo di bestione. Io t'ho detto brutta. Io. Bucciardo, io neanche te stavo a vedere. Te la pigli con me perché sono appena arrivato. Io ho parlato solo con lui. E si gira verso di me. Vero? Chiamato in ballo, annuisco prontamente. Ma a te manco t'ho guardato, chi te conosce? Ora vi mettete sul letto e vi calmate. Non fate sciocchezze, ve lo dico una volta sola. State tutti e due sotto TSO. Ricordatevi che il tribunale vuole essere informato se qui dentro accadono reati, quindi niente liti, niente risse. Entrambi, a sentire nominare l'acronimo magico, provano a calmarsi. Datevi la mano e mettetevi a letto. O se volete andate a guardare la televisione. Non voglio più sentire storie. Giorgio allunga il suo manone prontamente. Non sembra in grado di serbare rancore verso chi che sia. A riprova aggiunge il suo sorriso sprovvisto di canino superiore sinistro. Gianluca invece impiega un po' per tendergli la mano. Quando lo fa sembra quella di una principessa pronta a ricevere il baciamano. Nel suo sguardo l'irritazione non è minimamente scesa. Te la do sta mano, ma proprio tirata. Ottimo, ora fate i bravi. Cimaroli chiude il discorso e contemporaneamente si incammina fuori dalla stanza. Poi si blocca. Si gira verso di me. Mi dispiace Mencarelli, oggi è andata così. Comunque ci siamo detti cose importanti, no? Annuisco. Ottimo. A passo svelto abbandona il territorio di guerra, finita in una stretta di mano. Durante il litigio tra Gianluca e Giorgio ho guardato spesso nella direzione di Mario per vedere la sua reazione. Mi sembra l'unico adulto presente nella stanza. L'ho sempre trovato di spalle. Di tanto in tanto provava a girarsi verso di noi per poi tornare alla finestra. Era come se fosse impaurito. Se la violenza che si stava celebrando nella stanza potesse in qualche modo arrivare a lui. Dalla porta entra il padre di Alessandro. Ci guarda senza sapere che sino a un secondo fa si è rischiata la rissa. Più che altro è catturato dalla presenza del nuovo arrivato. Giorgio. Sei nuovo? Giorgio prontamente annuisce. Sì, pure se qui a sto reparto me conoscono bene. Vengo spesso. Il padre di Alessandro si è intanto seduto accanto al figlio. Ecco ripetersi la scena di ieri. Lo yogurt tirato fuori dalla busta, il cucchiaino inox avvolto nel tovagliolo di carta. Che c'hai? Chiede mentre sistema un canovaccio attorno al collo del figlio, una specie di bavaglino. Io? Niente? Mamma è morta e io me so fatto questo. Allunga il braccio per mostrare la fila sterminata di tagli, ma il padre di Alessandro non se ne accorge, preso com'è a imboccare il figlio. Mi fio è sempre stato normale. Lavoramo assieme, io ho 40 anni di muratura alle spalle. Lui me fa da manovale. Fino a una mattina. Un'improvvesa lucidità. Qui dentro la condanna non è il TSO. Magari fosse quello. La vera pena affibbiata dal destino sta nella reiterazione del vissuto, come le repliche di uno spettacolo, un'eterna prima teatrale. Ecco il padre di Alessandro iniziare la sua parte. Questa volta l'invitato d'onore è Giorgio. Non ce la faccio a rivivere lo strazio che si sta consumando proprio davanti al mio letto. Esco dalla stanza velocemente, neanche ci avessero tirato un lacrimogeno dentro. Mi ritrovo a vagare per il corridoio. Inizio a percorrerlo avanti e indietro. Compio cerchi, identici, nauseanti. Quando mi fermo ho a fianco a me il telefono. Pronto? Non mi aspettavo la voce di mia sorella. Di solito a quest'ora è al lavoro e se non è al lavoro è nella sua nuova casa di sposa fresca di matrimonio. So io. Mamma è a fa spesa. Come va? La sua voce è tirata, distante. Mi dispiace per quello che è successo. Adesso, come al solito. Sotto il silenzio di mia sorella sento il televisore acceso, la vita, la normalità di casa mia. Com'è che stai a casa di mamma? La domanda mi è uscita giusto per scacciare il silenzio, ma è ingenua ai limiti del provocatorio. Non te lo immagini? Eppure de fantasia ce n'hai sempre avuta tanta. Il soggetto sottinteso è uno solo. Mia madre. Come la vedi? Come una che ha un figlio rinchiuso in un ospedale psichiatrico. Vorrei che questo senso di colpa che mi brucia dentro fosse un inedito. Qualcosa di mai vissuto. Invece non lo è. È dalle elementari che creo problemi. Sono un figlio uscito guasto dalla fabbrica. Vorrei con tutto il cuore che questo soggiorno obbligato fosse il botto finale dello spettacolo pirotecnico. I primi vent'anni della mia vita. Ma qualcosa, semplicemente la conoscenza della mia natura, seppure sommaria, mi dice che non sarà così. Ora scusa ma devo tornare de corsa al lavoro. So passata giusto per un saluto a mamma. Se riesco ti vengo a trovare domani sera. No, una settimana passa presto. Né mamma né te dovete venire qui dentro. Per nessun motivo. Come vuoi. La telefonata a casa mia, la voce di mia sorella, tutto mi è arrivato come un miraggio di quotidianità, lontano anni luce dal luogo in cui mi trovo. Cimaroli mi ha consigliato questa nuova categoria di antidepressivi, ma non mi ha detto un nome preciso. se lo sapessi, lo pregherei. Mi ritrovo a invocare così, genericamente, lungo il corto corridoio del reparto. Santa Medicina, ti prego, custodiscimi e governami. Fammi diventare normale. Fammi meritare la mia casa. Amen. Al mio fianco sfila Madonnina, mezzo nudo, con il pannolone in bella vista. Va in nessun luogo. Come sempre. Nella stanza ora regna la pace. Giorgio starà nella sala della televisione o magari dai medici. Gianluca invece è sul letto, tenta di mettersi lo smalto alle unghie dei piedi, ma qualcosa non lo convince, forse il colore prescelto, forse il suo talento nel metterselo, forse i piedi maschili. Mario è affacciato verso il suo albero, sempre vicino al letto. Sembra prigioniero di un recinto magico, invisibile. Un incantesimo dona a quei pochi metri quadri altra luce, a lui altro benessere. Tutto a posto? Gli chiedo. Prima di entrare nel suo spazio voglio vedere se sono ben accetto. Mario si gira verso di me, annuisce con quella espressione di buonarietà assoluta. Tu? Abbastanza. Ho parlato con Cimaroli, mi ha consigliato un farmaco di una categoria nuova di antidepressivi. Mi affaccio dalla finestra sul grande albero immobile, vittima come noi del caldo. I ricaptatori di serotonina, gli SSRI. Annuisco. Sono farmaci abbastanza puliti, non danno grandi effetti collaterali, in più agiscono molto in fretta. Vedrai che per un po' starai meglio. Le parole di Mario, almeno le ultime, mi mettono in allarme. Perché per un po'? Lui non ha mai smesso di guardare in direzione del nido del suo amico uccellino. È vuoto, non so se è per questo o per la mia domanda, ma la sua dolcezza naturale si svilisce rapidamente. Non esiste un farmaco che ti farà guarire o che su di te sarà efficace a vita. Ti ho già parlato di queste cose, me ne sono pentito. Tu sei tanto giovane, pure troppo. Ma quello che puoi trovare dai medici e dalla medicina è, nel migliore dei casi, un piccolo aiuto. Il resto sei tu. Il modo in cui vedi le cose, la forza con cui la vita ti arriva. Negli anni capirai che non è tutto un male. Lo scetticismo di Mario mi sembra precostituito, quasi ideologico. Somiglia a quelli di certi fricchettoni che vivono nei boschi del lago, rifiutano tutto del nostro tempo, a parte le droghe sintetiche. Scusa Mario se mi permetto, ma allora perché stai qui? Qui ti curano con quello che dicono loro. Annuisce, sembra dire che la domanda è più che pertinente. Dal tuo punto di vista non fa una piega. Sto qui perché ho bisogno di aiuto, come te, e perché, anche se non ci credo più, non ho altra scelta che affidarmi alla medicina. Io voglio solo metterti in guardia. Potrei anche farmi gli affari miei, ma mi sembri un bravo ragazzo. Ti faccio un esempio. Nelle mie classi, da un giorno all'altro, arrivarono le calcolatrici al posto degli abachi. Anche io le facevo usare, ci mancherebbe, ma dicevo ai miei alunni di non smettere di fare i calcoli a mente, di non affidarsi solo a quelle macchinette. A te dico più o meno la stessa cosa. Fidati pure dei farmaci, dei medici, ma non smettere di lavorare su te stesso, di fare di tutto per conoscerti meglio. Stamattina ti ho detto che per me i medici che studiano la mente sono ancora degli stregoni. Più o meno. Stamattina ci hanno interrotti, ma ti volevo portare questo esempio. Al mio secondo, o terzo mi pare, ricovero, fui mandato in un ospedale di palestrina. I manicomi erano stati chiusi da poco, per fortuna. Il reparto era misto. Nella mia stanza c'era una donna totalmente impazzita, violenta. Vuoi sapere perché? Al figlio avevano diagnosticato l'autismo. Lo sai la scienza ufficiale come spiegava questa malattia all'epoca? Qual era la loro teoria? La mamma frigorifero. Sai che significa? Secondo la scienza, la colpa del figlio autistico, malato, era da ricercarsi nell'anaffettività materna. In pratica davano la colpa alle madri, alla loro incapacità di amare normalmente i figli. Ti rendi conto? Ti immagini i sensi di colpa? Quello che può scatenarsi nel corpo di una madre a sentirsi dire una cosa simile? Il racconto di Mario mi ha sconvolto. Tutto mi sembra in equilibrio precario, più del solito, anche il pavimento. Ma questi sono racconti di un'altra epoca. Oggi la scienza è migliorata. Io sono vecchio e racconto cose di vecchi. Non pensarci. Vanamente, prova ad alleggerire il peso. Ci ridesta il suo amico uccellino. Si è materializzato nel nido. Guarda proprio nella nostra direzione. Restiamo così, a fissare quell'essere animato da vita e istinto. Nient'altro. Ma il tuffo, a pensarci bene, a guardarlo da un'altra angolazione, forse la più corretta, è sempre una dimostrazione di follia. I miei amici che si lanciano come angeli, senza peso e senza morte, nelle acque del lago, altro non sono che inconsapevoli esseri privi di logica. Perché tuffarsi? Perché rischiare nel migliore dei casi la vita? Troppe le incognite affioranti a pelo d'acqua, pochi vantaggi reali, forse nessuno, a parte la gloria urlata tra noi ragazzi. Forse per l'adrenalina mentre tutto si compie, sospesi nel vuoto, tra vita e rocce. Ma se a prevalere la logica, se la conoscenza dei pericoli diventa certezza che essi accadono, si finisce con il non tuffarsi più. Io, questa sera, ho provato. E ho perso. Tutto lasciava intendere la pericolosità, la follia totale del tuffo. Ma la fame era troppa e i biscotti di mia madre finiti. Le penne al sugo, così presentate da Lorenzo, bastava guardarle. Un non sapore, una non consistenza. A occhi chiusi potevano essere qualsiasi cosa. Mario mangia le mele cotte che gli abbiamo passato. Anche Giorgio si è accodato a questa cortesia che gli facciamo, ma stasera darei oro per mangiare la mia. Una mela è una mela, per quanto la si possa rovinare. Finisco la cena svuotando una bottiglia di succo di frutta all'albicocca. Il bagno della stanza è abbastanza grande. A parte per lavarmi la mattina, cerco di entrarci solo quando è davvero necessario. Mi dispiace dirlo, ma tutto mi schifa. Dall'odore ai pochi oggetti personali degli altri. Quando sto dentro cerco di respirarci il meno possibile. Faccio fatica anche a pisciarci. Per togliermi di dosso la puzza del bagno, me ne vado a respirare lungo il corridoio. Riprendo fiato, intanto maledico questo posto e me che ci sono finito. Sto al secondo giorno nemmeno concluso. Ne mancano ancora cinque. Un'eternità. Io qua dentro ci impazzesco. Quello che non sono riuscito a farmi da solo lo finirà questo trattamento sanitario obbligatorio. Con il quadernone sotto il braccio me ne vado nella saletta della televisione. Non c'è nessuno. Mi siedo attorno a un tavolo ingombro di vecchie riviste, di segni lasciati da chissà quale dei tanti matti presenti e passati. Nella prima pagina ritrovo la mia amante lasciata sul più bello e l'unico verso scritto. Sei sempre tu che vieni a riprendermi. Cerco di risintonizzare la mente, il cuore, di andare indietro nel tempo, a poche ore fa, al mare di sensazioni provate nel rivedere mia madre da giovane, fuori la scuola elementare, in mia attesa. Spesso mi inventavo mal di pancia, di testa, perché stare lontano da lei mi era insopportabile. Quante volte mi è venuta a prendere prima del tempo. La nostalgia è un dolore fisico, colpisce in mezzo allo sterno, ai polmoni. Ecco, forse questa cosa, messa in bella copia, con le giuste parole, può essere un indizio, il seguito della mia poesia. Appunto la parola memoria, perché la mia mente è piena di ricordi tutti uguali. Lei che spunta in classe e mi prende. All'epoca fingevo di star male pur di vederla. Oggi il male è vero. Oggi non c'è bisogno di fingere. Ma qui nessuno può venire a prendermi, a portarmi via. Gianluca entra nella sala televisione, sembra dotato di un radar. Si accorge immediatamente della penna puntata sulla pagina. Che sta a fa? Niente. Ma perde tempo a disegnare. Subito richiudo il quadernone. Giochiamo all'impiccato? Gianluca si siede accanto a me. Il suo gomito sfiora il mio. Te va? Lo guardo a lungo. Infine annuisco. Però comincio io. Mi afferra il quadernone, io me lo riprendo. Lo apro e strappo un foglio, glielo passo. Lui disegna il patibolo, poi inizia a pensare. La parola che sceglie è abbastanza lunga. Inizia con la G e finisce con la O. Tentativo dopo tentativo, in breve tempo, mi ritrovo a essere un pupazzo impiccato al patibolo preventivamente disegnato da Gianluca. Alla parola segreta sono riuscito ad aggiungere una M nel mezzo e una T prima della O finale. Godimento. Gianluca osserva la parola a lungo. Averla formalizzata, vederla avergata su pagina, ha su di lui uno strano effetto. Sembra lapparsi la bocca. Mi guarda e si rende conto di aver esagerato. Dai, mo' tocca a te. Io inizio a pensare alla parola. Alla fine la trovo. È breve e inoltre ha una doppia nel mezzo, cosa che rende ancora più agevole la soluzione. Scappare. Signori, spegnete! Rossana si affaccia velocemente nella stanza. Io le faccio un sorriso enorme, una richiesta neanche troppo sottintesa, ma lei fa finta di non vedermi. Schizzo dal letto. Scusi! Lei inseguo lungo il corridoio. Scusi! Finalmente si ferma ma continua a darmi le spalle. A passo svelto la raggiungo. Buonasera, le volevo chiedere la pasticca di ieri sera per dormire e il farganasse mi ha fatto benissimo. Lei inizia a scrollare la testa. Mi dispiace, ieri sera ho lasciato l'appunto per i medici, ma Cimaroli mi ha scritto che non puoi prendere né calmanti né sonniferi. Non ci posso fare niente. Stavolta l'impresa mi sembra davvero complicata. Mi vengono in mente le parole di Pino. E noi non glielo diciamo. Ma non è meglio che dormo? Lo dico pure per te. Io se no sto tutta la notte in giro per il reparto. Mi guarda meglio, dalle ciabatte alla punta dei capelli. La visione complessiva le fa spuntare un'espressione di sufficienza. Fa quello che ti pare, ma di farmaci io non te ne do. Buonanotte. Per Rossana la discussione è terminata. Non è lei il bersaglio del mio odio, ma quel bastardo di Cimaroli. Domani voglio proprio sentire per quale motivo mi ha tolto il sonnifero. Mentre mi ributto sul letto, sfatto, umido di tutto il sudore della giornata, non riesco a smettere di pensare a lui. Cimaroli se ne starà sulla sua terrazza in attesa della cena perché fuori, nel mondo normale, è ancora presto, sorseggiando mezzo bicchiere di vino, alla faccia mia e di tutto il reparto. Poi me lo immagino intenuta da jogging, mentre corre o tenta di farlo lungo la passeggiata del lago di Albano. Non so se per i farmaci, ma nella stanza dormono già tutti a parte Gianluca. Di Giorgio la certezza, russa beatamente, anche se forse per la posizione, con meno fuga di oggi pomeriggio. Mario è girato verso l'albero. Dalla mancanza di movimento al respiro regolare, tutto lascia intendere il sonno. Alessandro guarda sempre il suo punto segreto sopra il mio letto. Lui non fa testo. È incredibile come l'essere umano sia capace di assuefarsi alle cose, anche le più bizzarre, inverosimili. Ho davanti a me un ragazzo che giorno e notte sta fisso a guardare il nulla, come un robot spento, eppure quasi neanche ci faccio più caso. Della mia incredulità iniziale, di tutto lo stupore, non c'è più traccia. Madonnina ha gli occhi chiusi, il suo profilo scheletrico è rivolto al soffitto. Non so se è la semplice immaginazione o il fatto di essermi avvicinato a lui seppure di poco, ma dal momento in cui inquadro il suo pannolone inizio a sentire cattivo odore. Non mi sembra che qualcuno lo abbia pulito, tantomeno cambiato. Gianluca, l'unico sveglio, sta sistemando da diverso tempo qualcosa nel suo armadietto, piega vestiti e rassetta come una buona casalinga il suo spazio. Inizio il rito del sonno. Ripeto a me stesso che ce la farò, sorrido per tranquillizzarmi. Stasera sarà una passeggiata. Cerco di dare un ordine alla respirazione, poi mi concentro su qualcosa di bello e al tempo stesso calmante. Mi viene in mente l'uccellino di Mario. Mi immagino nel nido, assieme a lui, dormiamo quieti al fresco della brezza che muove i rami. Ci culla. Chissà se anche tra gli animali c'è la categoria degli insonni. Loro hanno un sonno diverso dal nostro, leggero, sempre in allerta, ma a modo loro dormono. Insonnia è un'altra cosa, è una patologia. È la volontà irrealizzata di dormire, è la veglia che non cede il passo. Finisce sempre così. L'immagine piacevole, arcadica, dura poco. La mente riesce a insinuarsi anche lì. Trasforma l'immagine in riflessione, interrogativo. E io ci casco. Mi alzo. Sull'unica poltrona logora, bucata, presente nella saletta televisione, ritrovo Rossana. Mi vede arrivare e nulla fa per nascondere il dispiacere. Posso? E mi siedo accanto a lei. Magari la mia presenza, l'evidente fastidio, le farà cambiare idea sul Farganasse. La televisione è puntata sul Rai 1. Che fanno? Un disco per l'estate, ma se rimani qui stai zitto. La trasmissione parte forte. I primi ospiti sono i Corona con The Rhythm of the Night. A me la commerciale fa schifo, io amo la tecno, quella in musica. Il brano non sembra far impazzire nemmeno Rossana. Pino t'ha parlato male di me, vero? Mi chiede senza staccare gli occhi dalla televisione, disgustati di fronte all'esibizione dei Corona. Il mio silenzio la fa girare verso di me. Puoi parlare tranquillamente, tanto lo so che lo fa con tutti. Più che male ha fatto battute. Ha detto che so brutta e vecchia, vero? Resto senza parlare, ma consento. Te la dico io la verità. Noi qui siamo entrati assieme venticinque anni fa. Eravamo tutti e due liberi. Lui si è innamorato subito. Ci provava in ogni modo, ma a me piaceva il ragazzo che poi avrei sposato. Non si dava pace. Col tempo sei incattivito. Certo. In realtà non so che tra i due abbia ragione. A me nemmeno interessa molto a dire la verità. Se propendo così apertamente per lei è solo perché spero, in cuor mio, di farle cambiare idea sul far ganasse. Un grido disperato ci gela. Un urlo di donna. Per lo spavento ho afferrato il polso di Rossana. Restiamo immobili, in ascolto. Dopo un primo istante di turbamento, lei ha già riacquistato la calma. Viene dai cattivi? Rossana annuisce. Non vai a vedere? C'hanno un infermiere che fa la notte da loro. In comune non avete niente. Anche le entrate è dall'altra parte. Meglio così, crede me. L'urlo, l'idea di vedere in televisione canzoni che detesto, alla fine mi alzo, diretto nell'unico luogo che mi sia concesso. A Rossana non do neanche la buonanotte. Eccomi. Non ho orologio, ma al massimo saranno le dieci. Cerco di chiudere gli occhi, ma non posso chiudere il naso. Nella stanza, con il passare delle ore, un misto micidiale, l'aria si è fatta irrespirabile. Dal pannolone di Madonnina ai piedi giganti di Giorgio, dai capelli scoloriti di Gianluca alla vestaglia invernale di Mario. Sino al nulla, spinto a forza dentro Alessandro. L'aria è ricolma delle loro maledette pazzie. Incurabili, trascurate, abbandonate. La rabbia sa sedurre, mi chiama. La sento montare dentro le vene, scalda la fronte. Ne sono invaso. Non c'è niente qui dentro che non odi profondamente. Vi odio per quello che siete, ma ancora di più per quello che rappresentate. La visione di ciò che potrebbe essere, l'incarnazione del mio futuro. Ecco quello che mi aspetta. Vi odio. Mi odio.